Comprare casa, come risparmiare il 25% grazie ai Mutui Green. Comprare o costruire casa in modo sostenibile è ora possibile grazie ai Mutui Green, ideati per chi tiene a cuore l'ambiente. Scopriamo insieme come funzionano e quanto si può risparmiare. La direttiva Case Green mira a un parco immobiliare completamente senza emissioni di CO2 entro il 2050. Il Mutuo Green si rivela un'ottima opportunità in questo scenario, con tassi che partono dal 2,45%. Con un Mutuo Green si può acquistare, costruire o ristrutturare un immobile in modo da renderlo energeticamente efficiente. Offre tassi di interesse inferiori rispetto ai Mutui tradizionali e garantisce un risparmio medio del 13% sugli interessi. Per richiedere un Mutuo Green è necessario presentare documenti che attestano l'efficienza energetica dell'immobile, tra cui l'attestato di prestazione energetica. Ti serve anche una serie di documenti personali e relativi al tuo reddito.